Ciao ragazzi sto montando il video, ovviamente parto con le cose belle perché se vi parto subito con un massacro psicologico non va bene, quindi godetevi questo perché mi sa che fra un po' arriva qualcosa di meno carino, ciao! Ovviamente non c'è l'acqua corrente e questo è la doccia dove c'era uno scarrafone enorme ieri sera che ho salvato da morte certa, ovviamente c'è anche di meglio, non è che, però siccome il budget è quello che è, mi arrangio e in ogni caso sono abituato a questa tipologia, senza di sdegnare 5 stelle, sia chiaro, ma adesso vi tocca questo. Bene, sono 24 ore che sono in Madagascar, c'è un caldo infernale, sono lei circa le 13, tra pochi minuti parto per andare in arrivo, mi faccio un bel 21 ore sul bus da Nazione, sono qua con i miei amici, i quali mi insegnano malgassi, finalmente sono lontano dall'Europa, vedremo quanto ci mettiamo a arrivare, insomma, a dopo! Se andrete in giro per l'Africa, questa è una di quei posti in cui voi vi troverete, ovvero una partenza di taxi bruce e dei bus, ora vi farò vedere il nostro bus che chiaramente è già rotto prima ancora di partire, 21 ore con quella gege, e più tardi vi farò vedere quelle che sono una delle meraviglie dell'Africa, ossia i taxi bruce, e qui sono con un mio carissimo amico, il grande, come state qua? A gege, a gege, dica il ciò all'Europa, dica il ciò all'Europa, dica il ciò all'Europa, a gege, a gege, a gege, a gege Morino, a gege Morino, merci! Giusto per cominciare bene, abbiamo già rotto prima di partire, previsioni d'orario d'arrivo, chi lo sa. Quello che avete visto è lo standard medio di un pneumatico che si usa qui in Africa per i taxi bruce, ovvero ogni volta che ci sali non sai mai se arrivi vivo, e tocca anche a me. Partiti, un'ora di ritardo sulla tabella di marcia, e questi sono i miei compagni, la musica è chiaramente a bomba, come tutta l'Africa, e ora vediamo se arriviamo vivi. La musica è chiaramente a bomba, come tutta l'Africa, e ora vediamo se arriviamo vivi. Beh, in ogni caso eccomi qua, sono all'orfanotrofe di Accania a Voco, di Antanarevo, capitale del Madagascar, una delle dieci nazioni più povere del mondo. Vedremo cosa vi aspetta. Ciao! Ragazzi, sono le sette e mezza, un abito durissimo, sono qua con le mie amiche e pezzi di tope che domani vi presento. Non preoccupatevi, tutto a posto, tutto sotto controllo. Grazie a tutti.